Ciao a tutti, sono Deborah Ufficialli, creatrice del programma Linea Luce e aiuto tutte quelle persone che vogliono acquistare o aumentare il loro benessere fisico, mentale ed emozionale. Ad ottobre partirà un mio nuovo progetto, ad ottobre farò un tour in Italia chiamato Linea Luce. Andrò nelle maggiori città italiane a portare consapevolezza per quanto riguarda l'argomento benessere. Benessere a 360 gradi, si partirà da un allenamento fisico, io sono istruttrice fitness musicale e dopo aver fatto i vari corsi con la Federazione Italiana Fitness sono diventata appunto istruttrice. Quindi la mia giornata partirà da tutto questo, ci alleneremo, ci sarà una sorta di teoria dell'allenamento in modo che voi potrete portare tutto quello che imparerete durante la giornata a casa nel vostro quotidiano. Perché quello che vi darà davvero i risultati sarà la costanza. La seconda parte della giornata sarà dedicata invece alla nutrizione, all'alimentazione, a quanto è importante nutrirsi correttamente e darsi amore anche a livello alimentare. Quindi darsi amore a livello fisico di allenamento, darsi amore a livello di nutrimento del nostro corpo. Il terzo step sarà invece uno step molto più profondo dedicato a tutto ciò che è spirituale. Essendo Coach Ray so quanto è importante, quanto è fondamentale essere in contatto con la nostra parte più profonda, con la nostra anima, con tutto ciò che c'è all'interno di noi. E so quanto è importante nutrire quella parte, quella parte più profonda. Quindi ci sarà tutto un lavoro dedicato alla meditazione e tutto un lavoro dedicato alla motivazione. Quindi all'avere un atteggiamento mentale vincente che ci porterà ad aumentare il nostro potenziale e a raggiungere finalmente i nostri obiettivi. Vi ringrazio per avermi ascoltata, vi aspetto, mandatemi una mail a benessereconlucechiocciolagmail.com e pronotate subito l'evento. I posti sono limitati e entro il 20 agosto avrete una super offerta se vi registrate adesso. A presto e buona giornata!